Nel giorno della liberazione di tre recuperi in programma si gioca solo a Neri, di fronte Rimini e Lentigione, ospiti alla caccia del primato in classifica, Biancorossi che devono rinunciare a Negretti, infortunatosi gravemente, fine stagione per lui. Mastro Nicola rispetto a mercoledì concede fiducia al centro della difesa Nanni, Vuta invece siede in panchina per scelta tecnica. Il Lentigione è orfano di Altinier dopo due pareggi deludenti con Pro Livone e Bagnolese, desideroso di avvicinarsi alle prime due della classe. Arbita la gara Canci della sezione di Massa Carrara, coadiuvato da Pasqualito di Aprile e De Giovanni di Nove Ligure, Terna, Toscana, Laziale e Ligure. Dopo una fase di stallo, il Lentigione arriva alla finalizzazione con questa incursione a cura di Caprioni. Troverà fortuna più tardi. Il Rimini costruisce la sua prima azione al minuto 11 con questo colpo di testa di Ambrosini che si perde sull'esterno della rete. Passano appena 20 secondi dalla ripresa del gioco e rata impostazione del Lentigione. Ambrosini in approfitta, tocca la sfera e appoggia per Ricciardi. La concursione dell'ex Efermana viene stoppata in corner. Dalla bandierina lo stesso centrocampista chiama la respinta il portiere Sorzi. I due migliori dell'entigione, Alas, Caprioni e Barranca, dialogano arrivando facilmente alla conclusione. In questo caso la sfera si perde al lato, ma l'appuntamento dei gol è solo rimandato al minuto 26. Da questo traversone Zagnoni spizzica la palla di testa, fa da sponda per la corrente Caprioni che stoppa la sfera e beffa la retroguardia di casa, trovando l'1-0 che lancia il Lentigione a un passo da Fiorenzola e Aglianese. Dalla bandierina Scott è costretto alla rispinta di pugno. Il pallone viene raccolto da Stahiti che chiama ancora l'esperto numero uno alla risposta. Sempre Scott è chiamato l'attenzione anche su questo traversone nell'anticipo su Piccinini. Prima del duplice fischio, Stahiti esce per infortunio lasciando il posto a Martino. Il Lentigione confezione l'ultima palla a gol del primo tempo con Scalini che apre per Barranca. In acrobazia l'attaccante impegna così Scotti, squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa, dopo 25 secondi, Casola prova subito a impensire la porta ospite, ma schiaccia troppo la conclusione. Caprioni invece dall'altra parte alza la mira, sprecando una buona occasione. Se Caprioni rimane a guardare, si scatena invece il partner offensivo Barranca. Indemoniato e non senza affanni, la difesa del Rimini si salva anche in questa occasione. Dal conseguente angolo, Zagnoni arriva a staccare di testa, la sfera termina alta. Il Rimini ringrazia e pareggia. Maledetto il tocco di Tarantino sul piede di Casola, l'arbitro ben appostato, senza esitazioni, indica subito il dischetto. Dagli 11 metri, dopo gli errori di Casola e Vutai, si presenta Ambrosini che realizza il gode pareggio con tanto di maglietta di dedica a Nigretti. Festa Rimini in questo caso. Il Lentigione non ci sta e quando Manfroni entra così su Barranca, gli ospiti vorrebbero il penalty. L'arbitro fa segno di proseguire. Nulla da fare. Caprioni si prova da calcio piazzato, ma Scotti si dimostra superlativo. E ancora Caprioni a chiamare la respinta in corner, l'attento Scotti. Dalla bandierina, Scotti prima smanaccia, poi deve metterci una pezza sulla conclusione del neoentrato Rossini. E quando Zagnoni realizza l'ennesima discesa, appoggia per Barranca e cui tiro viene ancora una volta neutralizzato dal portiere di casa. Siamo al 31esimo della ripresa, l'attenzione in tribuna viene avvertita anche dal presidente Rota. Nel finale, in girata, l'ultima occasione capita Pupescu, ma la sfera termina alta. Termina qui una gara dove il Lentigione si dimostra signora squadra. Il Rimini capitalizza al meglio l'occasionissima del penalty, ma confermandosi ancora una volta subito dopo le prime tre della classe. Il getto d'acqua riminese spegne forse le ambizioni del Lentigione, ma si spera non quelle del Rimini, che per il calcio che conta dovrà passare tramite i play-off.